Occhio al personaggio Se i nostri amici ti volessero vedere, dove possono venire a vedere una tua esibizione o fare quello che ho fatto io oggi, cioè provare questa emozione della danza del ventre? Allora, sicuramente sulla mia pagina Facebook Candia Grimolizi troverete tutte le informazioni, io seguo corsi in varie scuole sul territorio campano, quindi l'Accademia Bellini a Via Santa Teresa degli Scalzi o al Rione Alto alla Danz'Arto Studio o anche l'Accademia delle Palme a Via dei Mille. Per quanto riguarda invece le prossime esibizioni, venerdì 24 febbraio sono fiera di poterlo dire che ci sarà una bellissima serata al Club 55 in Via Toledo 55, l'evento si chiama Belli Carnival ed è tutto incentrato appunto sulla danza orientale in una bellissima location che è un club del 600. Candida, sfatiamo un mito, è vero che nella danza orientale si deve essere molto in carne oppure diciamo che anche le magroline possono avere la loro occasione di essere ballerine per una notte? Assolutamente no, non bisogna essere molto in carne, è una diceria perché ovviamente si vanno a sforzare parti del corpo che noi non sappiamo nemmeno di avere con questa danza, quindi è molto importante lasciarsi andare perché anche le più magroline hanno comunque un punto vita, non dipende dalla taglia del seno che spesso mi viene richiesta, comunque dalle forme, ma anzi è una danza che enfatizza ogni tipo di donna. Va bene, io vi saluto da Maria Rosaria da Napoli è tutto e vi aspetto insieme a Candida al prossimo evento, ciao ragazzi!